Anno nuovo, rincari nuovi. Il 2024 porterà infatti brutte sorprese per le tasche dei consumatori con diversi aumenti di prezzi e tariffe previsti nei vari settori. Il conto potrebbe raggiungere secondo l'Osservatorio Nazionale Feder Consumatori oltre 1000 euro di rincari a famiglia. L'inizio del 2024 coincide come noto con la fine del mercato tutelato e l'inizio di quello libero del gas, un passaggio che riguarderà nelle prossime settimane ben 5 milioni di famiglie in tutto il bel paese ad esclusione delle persone vulnerabili. Il Consiglio per i cittadini è non avere fretta perché non viene staccato il gas, soprattutto verificare nei siti deputati di Arera che è il portale offerte www.portaleofferte.it che è il sito di Arera e lì inserendo tutta una serie di dati che sono dove insiste l'utenza, da quante persone è servita l'utenza, quante grande la casa ed altre informazioni che viene richiesto di inserire, compariranno tutte le offerte in vigore nella zona. Non mancano poi rincari in campo alimentare della ristorazione, trasporti, assicurazione auto, servizio idrico, smaltimento di rifiuti, tariffe, tasse e imposte locali. Previsti anche aumenti per quanto riguarda i pedaggi autostradali che registrano un più 2,3% in linea con l'inflazione del 2024. L'andamento degli ultimi mesi però dimostra come l'inflazione non sia più galoppante come un tempo se a gennaio 2023 registrava un più 10%, a novembre del 2023 la crescita era del più 0,7% come segnalato da Istat.